Un saluto a tutti i campanari di Youtube, ci troviamo ad Ivrea, al Borghetto, questa è la chiesa di San Grato, abbiamo 5 campane e le ascolteremo per il concerto in onore di San Savino, a presto! Un saluto a tutti i campanari di Youtube, a presto! Un saluto a tutti i campanari, a presto! Un saluto a tutti i campanari, a presto! Un saluto a tutti i campanari! 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 Un saluto a tutti i campanari!